Nuovo Honda for Excellence Design HR 550cc, un gommone di 5 metri e mezzo destinato ai non patentati, venduti in package con le persone dentro, costituito da ragneri, motorizzato 40 cavalli, così come lo vedete, ha un prezzo molto interessante. Questa è qui in fiera, ovviamente dopo costerà qualcosa di più, ma da prendere in considerazione.